In questo momento così drammatico questo governo si riempie la bocca dicendo che darà più soldi alle forze di sicurezza. Peccato che però sia stato proprio questo governo che ha tagliato 750 milioni a tutto il comparto della sicurezza. E guardate, non è la solita lega cattiva che lo sta dicendo, ma lo dice il sindacato di polizia che è allarmato di tutti questi tagli e non sa, non sa come può difendere i cittadini visto che mancano tutte queste risorse. Ha la faccia dal Renzi che si riempie sempre e soltanto la bocca a parole e basta.